Era attraverso le scommesse clandestine che Cosa Nostra gestiva un giro d'affari milionario. Boss, gregari ma anche insospettabili, erano impegnati per conto della mafia catanese nel lucroso settore del gioco ad azzardo. Seguendo il denaro, gli uomini e la direzione investigativa antimafia sono riusciti a ricostruire la rete e i fiancheggiatori che alimentava le casse e le cosche. Sequestrati i beni per oltre 30 milioni di euro, 14 i provvedimenti restrittivi, di cui 12 i domiciliari, emessi dalla procura antimafia di Catania. In 65 sono finiti nel registro indagati, molti dei quali organici o vicini ai clan mafiosi. Associazione per delinquere finalizzata all'esercizio abusivo di attività di gioco e scommesse, truffa aggravata e intestazione fittizia di beni e reati contestati. In carcere Antonio Padovani, ritenuto il grande promotore e organizzatore delle scommesse d'azzardo in Sicilia. Dalle indagini è emerso che il re siciliano e le scommesse, oltre a organizzare il sistema del gioco d'azzardo, foraggiava e accresceva gli interessi delle più potenti famiglie mafiose. I sequestri hanno interessato 38 agenzie di scommesse nelle province di Catania, Grigento, Siracusa, Enne e Messina, oltre ai relativi patrimoni aziendali, beni mobili e immobili, conti correnti e rapporti finanziari. Grazie. Grazie.